E lei do pistol dai, e lei do pistol dai, e pistol petit mamma, pistol petit mamma. Nessù del venticello di male non fa niente, ma la nebbia di Milano fa venire a fronte da noi poveri napoletani che non siamo abituati, ci fa male, licenza poetica. In Svizzera hanno tolto la tassa sulla casa, le case non ce l'abbiamo, ma le tasse le paghiamo. Quando gli americani se ne saranno andati, noi mangiamo a bomba a mano, camionette e carroarmate. Si sa la bomba atomica, è un'arma micidia. Che ci frega, noi c'abbiamo le sigarette, monital. Io credo che la Russia qualche colonia vuole. Ma ci fa troppo fredda, hanno bisogno di un posto al sole. Per un posto al sole noi ci siamo rovinati. Speriamo che è ugualmente, ma su un guai qualcuno nato. Il consegno dei ministri muo' è sulla buona via. Così abbiamo molti gioveri e pari chiavi mali. Speriamo che com Grazie a tutti.